Musica Allora, secondo premio a Vida Palma, che ha scritto a te un bellissimo libro, che mi è piaciuto, è stato un libro edito da un grande, da Gospietti di Torino, curato, ecco, Genesi di Torino, mi parla appunto, e quando restano dei libri, di solito sono belli, così incestantemente è, dito da Genesi, Motivazione, la Sardegna e l'allocation di questo romanzo che imprevedibile unisce due amiche di viaggio, di coscienza verso la vita. Figure carismatiche di giovani che si incontrano e si scontrano per ricercare attraverso la spontaneità che libera la conoscenza profonda dei lavori. Brava! Grazie a tutti, io sono emozionatissima, questo è il mio primo romanzo, il primo premio, più importante, e sono anche molto emozionata perché, come dicevo, da Firenze, la mia città natale, io vengo da Bologna, ma Firenze è chiaramente il mio cuore. Grazie a tutti. Grazie.